Musica Buongiorno, bentrovati, mercoledì 9 ottobre 2019, la nostra rassegna stampa, mattino 6 che si apre come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, poi avremo l'edicola nazionale e poi nella seconda parte, nell'ultima parte parleremo di sport, ma andiamo per ordine, iniziamo dal centro l'edizione di Pescara per vedere il titolo di apertura che riguarda una tragedia accaduta a Montesilvano, mamma di 34 anni muore in casa, la donna cade a terra e la figlioletta chiede aiuto ai vicini. Poi vedete a centro pagina la sentenza per la rapina in villa a Lanciano, coniugi massacrati, stangata sulla banda, 65 anni di carcere complessivi per i responsabili. Vediamo le altre notizie a Pescara, file di servizi al centro per l'impiego disoccupati in aumento, Montesilvano, la città in piazza contro il progetto della nuova Pescara e poi il calcio di serie B, parla il presidente del Pescara Daniele Sebastiani che dice Bravo a Zauri, questo è un bel Pescara, Pescara reduce dalla vittoria di Ascoli, ricordiamo che sabato prossimo il campionato osserverà un turno di riposo. Vediamo un altro titolo che riguarda le giornate del FAI autunno, 63 luoghi da scoprire sabato e domenica prossimi nella nostra regione. Vediamo anche in alto perché la riduzione dei parlamentari è legge, voto finale alla Camera, solo 14 no, tagliati 345 seggi in Abruzzo, si passa da 21 a 13 eletti. Vediamo la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto del centro, ovviamente in questo caso il titolo di apertura riguarda proprio la sentenza per la rapina in villa a Lanciano. Vediamo le altre notizie, partiamo da Chieti, pestato in strada davanti al figlio per gelosia e poi strisce blu al megalò, spuntano i debiti e poi ancora a Vasto, men, attività per il turismo nei siti dismessi, dice il primo cittadino. Vediamo la prima pagina di Teramo del centro, vediamo che cosa accade a Teramo in provincia, quartiere Cona, siamo nel capologo a Prutino, c'è l'accordo per spostare la centrale dell'Enel e poi ancora a Teramo, entro ottobre 48 telecamere in tutta la città. E poi il calcio, il Teramo calcio in particolare perché questo pomeriggio alle 14.30 al Bonolis si recupererà la gara con la Sicula Leonzio che era stata rinviata nel secondo turno di campionato per l'indisponibilità del campo del Bonolis. Ci sono novità per quanto concerne la formazione da opporre alla Sicula Leonzio, gara che il Teramo deve vincere a tutti i costi. Vediamo anche la prima pagina del centro edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona, partiamo dall'Aquila, restituzione delle tasse, si apre uno spiraglio e poi Avezzano, sequestrate bici da corsa contraffatte. E poi andiamo ancora più in basso, sempre ad Avezzano, truffa ai cinesi, Paris prosciolto, incubo finito. Vediamo la prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero, stangata alla gang delle belve, questo è il titolo di apertura, Lanciano 65 anni di carcere per l'orecchio tagliato a Niva Bazzan e le botte a Carlo Martelli, la pena più alta al leader della banda di romeni, Bogdan Colteanu che ha mutilato la donna. Vediamo ancora l'Aquila, pagamenti accelerati in udienza, l'ex sindaco dell'Aquila Massimo Cialenti e poi Tua, Paolucci, la regione non sa gestire la situazione, dice il capogruppo al Consiglio regionale del Partito Democratico. E poi vediamo ancora, vetrine, la nuova formula del turismo esperienziale all'Expo di Rimini. Vediamo anche a centro pagina altri titoli, Teramo, autobus strapieni e corse saltate, gli studenti a terra. E poi provincia ambiente, processati furbetti del cartellino, la procura chiede 13 rinvii a giudizio. Vediamo anche la prima pagina del quotidiano La Città, oggi riparte il cantiere Lumaca, siamo a Teramo, Nereto, il sindaco mostra il progetto da oltre un miliardo per 400 posti. E poi Isola del Gran Sasso, muffa nella scuola aperta un anno fa. Andiamo ancora a vedere qualche titolo dalla prima pagina del quotidiano La Città, Teramano a Forlì, palpeggia una settantenne sull'autobus arrestato. E poi Tortoreto, confartigianato, si schiera dalla parte del Manacara. Vediamo poi in basso altri due richiami di argomenti, di articoli che troveremo all'interno del giornale. Diacovo domani sera all'Arca per il premio Teramo e poi il calcio di Serie C. Teramo stasera di nuovo in campo, non ci sono alternative, bisogna battere la Sicula Leonzio per tornare a far sorridere i tifosi. Tra poco torneremo a parlare delle questioni che riguardano la nostra regione, le nostre province, ma andiamo a vedere invece l'edicola nazionale con le prime pagine dei quotidiani che sono oggi in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera, sì al taglio di 345 parlamentari, la riforma e legge, voto quasi unanime. Solo 14 contrari e c'è già chi prepara il referendum. Vediamo poi al centro pagina il premio Nobel della fisica a James Pebles, Michael Major e Didier Kellogg. Questi sono i tre vincitori del premio Nobel per la fisica, Nobel ai cacciatori di gemelli della terra. E poi vediamo di spalla quest'altro titolo, la Corte Europea boccia l'ergastolo duro, scusate Roma, risponde, reagiremo. Vediamo anche in alto un titolo che riguarda il calcio, un titolo che riguarda il Milan in questo caso, perché dopo l'esonero di Marco Giampaolo è Pioli, il nuovo allenatore dei rossoneri, che ha firmato per due anni tra le proteste dei tifosi, la maggior parte dei tifosi rossoneri, che contestano la scelta della società. Andiamo a vedere il prossimo quotidiano dopo il Corriere della Sera. Tendiamo un secondo. Ecco qui il prossimo quotidiano che è La Repubblica, taglio al Di Maio. Vediamo anche in questo caso, come al Corriere della Sera, il titolo della Repubblica sulla legge per la riforma del Parlamento, che è stata approvata definitivamente alla Camera, con 553 sì e solo 14 contrari. E poi vediamo più in basso, Russagate, gli incontri segreti tra Conte e il capo degli 007. E poi ancora in basso, altri due titoli, Cina in via oscurata per un tweet pro Hong Kong. E poi la Corte Europea dice all'Italia di cambiare il fine pena, fine pena mai, secondo la Corte Europea. Questa è la richiesta al nostro Paese, che è pronto però, come abbiamo visto anche prima, a reagire. Il fatto quotidiano. Hanno riammazzato Falcone e Borsellino. I giudici di Strasburgo intimano all'Italia di dare permessi e benefici agli ergastolani. Poi in alto, 5 stelle, il regalo di compleanno, parlamentari tagliati da 945 a 600. Andiamo a vedere anche il mattino di Napoli, tagliati 345 parlamentari, approvate la riforma costituzionale. In futuro 400 deputati e 200 senatori. E poi l'Unione Europea, non all'ergastolo, da Cutolo a Sandokan, chi può tornare libero. Vediamo anche, in questo caso proprio libero, quotidiano libero, rovina gli imprenditori in credito, lo Stato in cassa e non paga. Agenzia delle Entrate Inps esigono tempi rapidi nella riscossione di balzelli e contributi, commercialisti. La pubblica amministrazione ha ripreso a saldare in ritardo le fatture. Vediamo anche il manifesto, il titolo a tutta pagina, con corredo di foto. I maltagliati, vedete il titolo, con un voto quasi unanime, appena 14 no e 2 astenuti. La Camera approva la riforma costituzionale che taglia 345 parlamentari e affonda la rappresentatività. Il Partito Democratico e l'EU votano sì, ma ricordano gli impegni di Garanzia e 5 Stelle che festeggiano con le forbici. E poi parliamo dell'ennesima tragedia in mare, così il mare ha ingoiato i bambini, testimonianze shock dei migranti sopravvissuti al naufragio di domenica scorsa a largo di Lampedusa. Andiamo a vedere anche il messaggero, la pagina nazionale, il taglio delle Camere Legge, vedete il titolo in alto. La Camera con 553 sì e 14 no, cambia la Costituzione, in futuro 400 deputati e 200 senatori. Vediamo anche a centro pagina, storico al Mondiale, Cina KO Italia, squadre sul podio dopo 69 anni, la magia di bronzo delle fate, delle ginnaste italiane che hanno conquistato la medaglia di bronzo ai mondiali. Cambiamo argomento, un piano per l'IVA tra sconti, rincari e bonus per le carte, l'ipotesi in manovra, nuovo scaglione al 22% per hotel e ristoranti, riduzioni per elettricità e gas. Vediamo anche sul messaggero, poi nella parte bassa della pagina, il titolo che abbiamo visto anche sugli altri quotidiani, il titolo che riguarda la Corte di Strasburgo, che chiede benefici anche per mafiosi e terroristi, e il gasto lo duro, l'altolà all'Italia. Poi un altro titolo che sta tenendo banco in queste ultime ore, il TAR, vieta il Louvre a Leonardo stop al prestito dell'uomo vitruviano alla Francia, e ci sono in questo caso polemiche. Il sole 24 ore, multe IMU, i comuni a caccia degli evasori, e poi allarme del Fondo Monetario Internazionale sui debiti delle imprese, e poi ancora in basso auto, case e servizi dell'economia digitale con ricevute o scontrini, e poi parlando invece della Brexit, embargo russo, dazi americani, la filiera Latte, tre teme il crollo dei prezzi. Andiamo a vedere anche il quotidiano, la stampa di Torino, tutti contro la casta, il Parlamento taglia 345 deputati e senatori, e poi ritroviamo la notizia del premio Nobel ai fisici che danno la caccia agli alieni, vedete due dei tre premiati, due dei tre scienziati che hanno ricevuto il Nobel, per la fisica. Vediamo il Tempo di Roma, la grande truffa della monnezza, scandalo, le Iene filmano i dipendenti della Multiservizi che fingono di prelevare i rifiuti. E poi il Parlamento si suicida, tagliati 345 onorevoli, scrive il Tempo, e poi ancora accordo trovato anche Benetton, salva l'Alitalia, offerta entro il 15 ottobre. Vediamo anche il quotidiano, la verità, sequestrati PC e cellulari a Babbo Renzi, questo è il titolo di apertura, e poi a centropagina, Conte Blinda, l'uomo a cui ha consegnato i servizi e avverte il bullo, sto indagando su di te. E poi vedete anche sul quotidiano, la verità, parlamentari tagliati, governo sul ghiaccio, scrive il quotidiano, la verità. Vediamo il secolo.it, papello dall'Europa, sentenza contro l'Italia per gli ergastolani, anche se non collaboreranno con la giustizia, i mafiosi potranno accedere ai benefici di legge. Andiamo a vedere anche il quotidiano genovese, il secolo XIX, il voto cancella 345 parlamentari, ora la sfida sulla legge elettorale. E poi, storia e tecnologia, torna l'incanto dei Rolly Days, nel weekend a Genova, riaprono le antiche dimore con un'app per le visite virtuali. Vediamo un titolo in alto che riguarda il calcio, perché parlavamo prima dell'esonero di Marco Giampaolo, ex allenatore della Sampdoria, ma quest'anno sulla panchina del Milan fino a ieri, è stato esonerato Giampaolo al suo posto Pioli, mentre a Genova, dove c'era un'altra panchina traballante, quella del Genova, resta per il momento Andrea Zoli, mentre la Sampdoria, che aveva rescisso il contratto con il tecnico pescarese Eusebio Di Francesco, vira su Gattuso e intanto la scossa di Genova, la Serie B no, perché le due squadre cittadine stanno attraversando un periodo negativo, la Sampdoria ultima in classifica, il Genova in zona retrocessione. Vediamo anche avvenire il titolo di apertura senza risposte dal Viminale, una velina già smentita sulle riunioni con Vigia Serve Chiarezza, fonte anonime dell'interno, scaricano sull'OIM la responsabilità del tour del trafficante libico, e poi le Camere in formato light, l'ultimo sì al taglio di 345 parlamentari, la CEDU boccia l'ergastolo ostativo, CEDU che sta per Corte Europea dei diritti dell'uomo. E questo era l'ultimo quotidiano, l'avvenire che abbiamo analizzato, abbiamo visto nella sua prima pagina per quanto riguarda l'edicola nazionale, possiamo tornare al centro per ripartire da pagina 2, si parla di commercio, di riconversione delle aree industriali, i negozi nei capannoni, i dubbi dei comuni, vedete il titolo di apertura, con l'Antonio Assessore Comunale a Chieti siamo stati esclusi dalla discussione di una legge che sconvolgerebbe il nostro territorio. Ecco cosa non va. E poi, più in basso, Comitato delle Regioni che si è tenuto a Bruxelles, da Marsiglio, Presidente della Regione Abruzzo, un appello al Presidente del Contiglio Conte, evitare il taglio delle risorse. E poi mancano 111 segretari comunali, il parlamentare abruzzese Camillo D'Alessandro, interroga il Ministro Dadone, il deputato di Italia Viva, criticità nei piccoli enti e nelle aree interne, dove mancano appunto i segretari comunali. Parliamo anche della fibromialgia, perché la Commissione consigliare d'Abruzzo ha detto sì alla risoluzione. Abbiamo parlato di questo problema, di questa patologia, nel corso delle edizioni passate del nostro Tg, quando era stata presentata la proposta di legge in Consiglio regionale. Siamo al processo di Lanciano, processo di Lanciano e coniugi massacrati nella villa, stangata sulla banda, 65 anni di carcere, il capo dei banditi condannato a 15 anni e 4 mesi per gli altri 4, pene dagli 8 agli 11 anni. Un assalto studiato per giorni, l'ultimo sopralluogo sabato sera e domenica notte. L'irruzione in casa. Allora possiamo andare a vedere il primo servizio della nostra trasmissione, proprio che fa il punto sul processo e sull'udienza che si è tenuta ieri con le richieste dei giudici e la condanna a 65 anni di carcere in totale per i componenti della gang. Vediamo. Tutti colpevoli, secondo il GUP, ma con pene ridotte. Gli 86 anni complessivi di reclusione richiesti dal procuratore capo scendono a 65 anni di pene complessive inflitte alla gang romena che il 23 settembre del 2018 compì a Lanciano la violenta rapina nella villa dei coniugi Carlo Martelli e Niva Bazzan, alla quale venne mutilato l'orecchio destro mentre il marito fu pestato a sangue. I banditi cercavano una cassaforte che però non c'era. Il GUP Giovanni Nappi ha emesso la sentenza nel primo pomeriggio infliggendo le condanne più severe per il violento della banda Alexandru Colteanu con 15 anni e 4 mesi di reclusione e al capo del gruppo criminale Marius Martin con 11 anni e 4 mesi. Le altre pene sono di 10 anni ciascuno per Aurel, Rousset e Costantin Turlica che secondo la ricostruzione del PM Mirvana di Serio entrarono in villa dopo l'irruzione fatta da Colteanu e Martin. E ancora per i due pali autisti pene diverse Cosmin Turlica, fratello di Ion, condannato dal GUP a 9 anni e 4 mesi mentre per Bogdan Ghivizio che tentò di darsi alla fuga nelle campagne di Sant'Onofrio 8 anni di reclusione. Il patrigno di quest'ultimo, Georg Iacota accusato di favoreggiamento per aver aiutato Ghivizio a fuggire ha ottenuto le attenuanti generiche unico dei 7 imputati al processo celebrato col rito abbreviato e condannato a 10 mesi di reclusione e pena sospesa. Tutti i legali hanno annunciato il ricorso in appello le motivazioni sono attese tra 15 giorni. I primi 6 imputati erano accusati di concorso in rapina pluriaggravata lesioni gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di arma in relazione ad una roncola di 12 cm con la quale venne mutilata la Bazzan. Colteanu, appena richiesta dal PM 18 anni di reclusione ha reso dichiarazione spontanea in aula ribadendo di avere un alibi per quella notte nell'hotel Alba. L'integrazione probatoria era stata già respinta dal giudice a inizio dell'udienza. Il difensore Rocco Ciotti ha chiesto la soluzione piena. Il giudice ciò nonostante ha ritenuto di non dover svolgere quegli ulteriori accertamenti che noi abbiamo sollecitato come potere e dovere del magistrato garantemente con quanto previsto dall'articolo 441,5 del codice di procedura penale e quindi giunto alla decisione. Di fronte a queste condanne di fronte al prospettato alibi anche su un giorno di reclusione se vi fosse la possibilità appunto di dimostrare la colpevolezza dell'innocenza del Colteanu sarebbero comunque ovviamente trovi. Per tutti gli altri imputati il collegio difensivo ha chiesto pene più equa in merito al reato di rapina ma la soluzione per il sequestro di persona e le lesioni gravi. Andiamo avanti siamo alle pagine sempre della cronaca regionale dal centro giornate del Fai d'autunno con 63 luoghi da scoprire vedete il titolo di apertura sabato e domenica l'edizione 2019 dell'evento dedicato a Giacomo Leopardi dalla necropoli di Campovalano all'eremo di San Bartolomeo in Leggio e poi l'Abruzzo a Rimini alla fiera del turismo la CNA Abruzzo porta 12 percorsi che vanno oltre la semplice ospitalità e nasce la guida cicloturistica più avanti vedremo un servizio siamo alle cronache dalle province partiamo da Montesilvano giovane madre muore davanti alla figlia Astrid Petrella 34 anni di Pescara stroncata da un infarto inutile l'allarme lanciato dalla piccola dalla figlia ai vicini il cordoglio della città degli amici sincera e ottimista sempre il ricordo in particolare dell'amica Marilu sua testimone di nozze sanità dopo il caos di lunedì ospedale al collasso ma l'asla assume medici per i detenuti il presidente del consiglio regionale sospiri contro l'atto che potenzia il presidio sanitario interno al carcere università biblioteca trasferita per lavori nei locali in via Tirino e poi ancora centro per l'impiego e caos tra file e disagi siamo a Pescara i disoccupati aumentano ma orari e personali sono all'osso assenteismo l'udienza a dicembre inchiesta provincia ambiente 13 dipendenti accusati di truffa falso e peculato l'edificio da abbattere riviene a l'ord va a fuoco l'ex rifugio dei disperati l'incendio si è sviluppato ieri notte del fabbricato abbandonato dell'ex ENAIP distrutti mobili materassi e vecchi televisori rogo spento dei vigili del fuoco blizze dei carabinieri al ferro di cavallo preso con 120 grammi di droga arrestato un giovane in via Tavo e poi sempre a Pescara i residenti via Verrino resti chiusa 30 famiglie aspettano marciapiedi fogne e illuminazioni via Rigopiano la nuova area verde parco dello sport l'attesa è finita i lavori completati entro gennaio l'impresa all'opera da ieri dopo il via libera ai finanziamenti del CONI per realizzare l'ultimo lotto e nel quartiere Colli si farà piazza Nilde Iotti lo dice l'assessore ai lavori pubblici Luigi Albore Mascia andiamo in basso altre 24 ore per demolire il palazzo oggi la fine dei lavori sulla riviera sclocco merito di chi governava prima ha detto l'ex assessore regionale oggi consigliere comunale di Pescara primi soldi dal comune per le iniziative di Natale Cremonese assessore al turismo al commercio pronti 100 mila euro per ripetere il successo delle luci d'artista si cercano anche sponsor il consigliere comunale dell'Udc Pignoli l'ente non spenda tanto come in passato parliamo anche di sanità di prevenzione dei tumori screening gratuiti con la campagna della Lilt con il nastro rosa iniziativa della Lilt è stata presentata ieri in comune a Palazzo di città un'importante iniziativa che torna quest'anno grazie al lavoro di tanti volontari allora possiamo andare a vedere anche in questo caso il servizio su questa importante iniziativa presentata dalla Lega Italiana per la lotta ai tumori con l'intervista che abbiamo realizzato al professor Marco Lombardo torna anche quest'anno la campagna del nastro rosa della Lilt Lega Italiana lotta ai tumori per la prevenzione e la lotta dei tumori al seno quest'anno l'evento si concretizza in maniera più articolata in quanto ci sarà sabato prossimo 12 di ottobre la carovana della salute organizzata dalla CISL di Pescara a cui la Lilt è stata invitata ad aderire quindi noi saremo cominciamo questo mese di ottobre con queste visite addirittura in piazza Salotto con i nostri senologi dell'ospedale con i quali siamo in convenzione la campagna proseguirà sicuramente nel mese di ottobre ma anche nei mesi successivi perché non riusciremo a fare tutte le visite che ci chiederanno e ci saranno esposti dei numeri a cui telefonare con delle giornate prefissate per poter prendere questi appuntamenti inoltre il sabato 12 c'è nel desk della Lilt a piazza Salotto si accettano anche le prenotazioni per queste visite senologiche chiaramente l'obiettivo nostro non è solamente quello di fare visite quindi prevenzione secondaria sul territorio ma è anche quella di suscitare nella popolazione interesse per la conoscenza della prevenzione in generale e anche per la prevenzione senologica voglio dire che i corretti stili di vita eliminazione di alcune malattie infettive eliminazione di alcune abitudini di vita come il fumo della sigaretta riescono a ridurre l'incidenza del tumore della mammella quindi anche il fumo fa male come incidenza sul tumore della mammella proseguiamo siamo la pagina di Montesilvano del centro no alla fusione dei comuni per la nascita della nuova Pescara venerdì ci sarà la protesta in piazza Diaz a Montesilvano e sempre a Montesilvano inaugurato un nuovo murales in via Maresca con la street art che narra il fiume e i suoi nemici ancora il dono di Mastro Tonino a Moscufo l'uomo di legno realizza un modello della chiesa di Santa Maria del Lago e parla della sua vita di artigiano in Montanaro Spoltore un successo la festa dei nonni e poi ancora Spoltore il comune aumenta i fondi per l'assistenza ai disabili proseguiamo siamo a Francavilla al mare sulle strade tornano i parcheggi gratuiti in cassa 264 mila euro chiusa la stagione delle strisce blu si provvede a togliere i 40 parcometri oggi prima lezione all'università della libera età e poi ancora Francavilla conquista la bandiera verde per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura San Giovanni Teatino l'opposizione a rischio la sopravvivenza della SGT la società proprio del comune di San Giovanni Teatino lo dicono i consiglieri comunali di opposizione siamo alla pagina della provincia di Pescara dell'area Vestina e dell'Alta Val Pescara partiamo da Villa Celiera il nuovo postamat funzionerà tutti i giorni in realtà l'impegno assunto da poste italiane prelievi, versamenti pagamenti saldo estratto contro e ricariche 24 ore su 24 ieri vi avevamo proposto nel nostro Tg il servizio sull'inaugurazione del nuovo postamat a Villa Celiera andiamo avanti Popoli evade dai domiciliari arrestato e poi Cappelle sul tavo i giovani del PD chiedono di prolungare la corsa del 3 dell'autobus urbano di Pescara fino all'ingresso del paese di Cappelle Popoli cimitero subito la sistemazione luci su Popoli invita il comune a fare la manutenzione prima della ricorrenza di tutti i morti del ricordo dei defunti del 2 novembre siamo a Chieti parcheggio a pagamento deserto tra i negozi strisce blu al megalò così il comune ci perde spunta un atto dell'amministrazione di primio sbagliata la stima degli incassi e le spese superano le entrate sul bilancio si apre il buco dei mancati guadagni a Tessa Sevel sindacati divisi sui turni all'ingotto salta l'incontro andiamo avanti sempre a Chieti cronaca pestato e rapinato per gelosia davanti al figlioletto di due anni l'aggressore ha processo e poi picchia e terrorizza la compagna arrestato un 35enne a Chieti e poi tragedia sempre a Chieti giù dal balcone muore a 67 anni una donna precipita in via San Camillo dell'Ellis Andiamo avanti siamo alla pagina di Teramo del centro riqualificazione vicina alla Cona accordo per spostare la centrale Enel decisivo l'incontro di ieri all'Aquila con la regione ma i tempi sono stretti il comune deve acquisire l'area dove trasferirla e sempre a Teramo sono in arrivo 48 nuove telecamere in città entro ottobre è previsto l'inizio dei lavori per montare il sistema di video sorveglianza lo ha detto l'assessore Valdo di Buonaventura andiamo nella parte bassa della pagina insulti al primario di urologia a processo un 58enne deve rispondere di oltraggio al pubblico ufficiale per aver offeso l'Aquilano Vicentini siamo alla pagina della provincia di Teramo Silvi stretta del comune sulla raccolta differenziata lunedì iniziano i controlli l'assessore incontra gli amministratori di condominio andiamo a centro pagina discarica di atri l'assessore ribadisce il no centorame niente ampliamento nonostante le contradduzioni annunciate dal consorzio a Pineto le scuole diventano plastic free e ancora in basso il consiglio comunale di Pineto approva il bilancio pagina dell'Aquila del centro sisma 2009 i danni economici tasse da restituire si apre uno spiraglio il presidente della regione Marsiglio a Bruxelles per consegnare il dossier sulle aziende aquilane possibili applicare il de minimis a 500 mila euro e Zichichi parla ai giovani di vita sostenibile lo scienziato ideatore dei laboratori del Gran Sasso domani in città per la società della scienza e dell'ingegneria siamo la pagina della provincia dell'Aquila a Scurcola Marsicana sequestrate false bici da corsa Marcelli chiariremo tutto estraneo l'ex campione del mondo di ciclismo il fratello Fernando è indagato per contraffazione in basso truffa i cinesi prosciolto Gianni Paris il presidente dell'Avezzano Calcio dice è la fine di un incubo per questa storia lasciai il club bianco verde Gianni Paris è tornato da pochi giorni presidente dell'Avezzano Calcio siamo arrivati a Osport allora possiamo fermarci per qualche istante tra poco torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6 per vedere insieme le pagine dell'inserto abruzzo del messaggero del quotidiano la città torniamo in studio seconda parte di mattino 6 siamo alle pagine interne dell'inserto abruzzo del messaggero partiamo da pagina 2 la riforma del Parlamento il taglio dei parlamentari il sì degli abruzzesi ma con tanti distinguo al no di colletti dei 5 stelle si aggiunge quello di Pagano di Forza Italia le perplessità di Quagliariello d'Alessandro dice ora i correttivi con la norma approvata ieri si dimenza la rappresentanza regionale a Camera e Senato gli itinerari dal Gran Sasso ai Trabocchi al Grande Spò delle Vacanze di Rimini se ne è parlato ieri nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede regionale della CNA 12 i percorsi turistici che saranno presentati da oggi all'11 ottobre alla Fiera di Rimini allora possiamo andare a vedere il servizio i percorsi del turismo esperienziale abruzzese sbarcano alla Fiera di Rimini la Grande Kermesse dedicata alla promozione e commercializzazione del settore e che ogni anno propone le novità del mercato agli operatori del settore tour operator compagnie aeree albergatori agenti di viaggio bus operator ed enti di promozione del territorio alla manifestazione romagnola che aprirà domani i battenti sarà protagonista la CNA Abruzzo con questa occasione a Rimini l'Abruzzo veramente potrebbe avere una svolta sul turismo esperienziale perché è l'occasione giusta dove si possono trovare dei buyer non solo nazionali ma internazionali questi buyer sono a disposizione di tutti gli operatori turistici dell'Abruzzo e sono all'incirca 32 non dimentichiamo che il Parco Nazionale d'Abruzzo tra qualche anno farà 100 anni della sua costituzione perciò è uno tra i parchi nazionali più importanti d'Italia insieme al Gran Paradiso da non dimenticare anche il turismo bianco quello della neve oramai abbiamo due comprensori molto importanti che è quello di Roccaraso e quello di Ovindoli andiamo a fare concorrenza alle regioni quelle che erano impostate sul turismo di neve bianca noi ci presentiamo al TTG di Rimini in maniera organizzata come CNA Nazionale e come CNA Abruzzo presentiamo 12 percorsi con 7 operatori che sono percorsi che vanno dai percorsi della costa dei Trabocchi ai percorsi della Maiella ai percorsi del Gran Sasso dell'enogastronomia del turismo diciamo così esperenziale per arrivare anche a un percorso del Vinocotto la terra del Vinocotto quindi ci presentiamo in maniera abbastanza attrezzata per far sì che dare delle opportunità di crescita e di fare che i nostri operatori nel B2B possano fare affari per portare tutti questi stranieri anche italiani all'interno di questa nostra regione Andiamo avanti sempre dalle pagine del messaggero incidenti stradali superata quota 3.000 nel 2018 il bilancio chiuso con 76 decessi e intanto c'è una nuova interpretazione giuridica del danno legato alla morte siamo alle pagine dalle province capodanno con gli sponsor privati l'assessore Cremonese siamo a Pescara parla delle festività natalizie festa a Piazza Salotto il 31 dicembre e concerto di un big il primo dell'anno ma le casse sono vuote Masci firma oggi il protocollo con la Camera di Commercio per le luci d'artista Seccia deve però trovare 100.000 euro Strever presidente della Camera di Commercio Pescara Chieti spot sull'Abruzzo a Malpensa e Fiumicino ripresi i lavori al Parco dello Sport confermati i fondi del CONI nazionale Andrea Muzzi campione di memoria così mi allenavo l'estate a Pescara il bisnonno Mario è stato sindaco il nonno Giovanni radiologo lui studia medicina e dice farò il chirurgo furbetti del cartellino udienza a dicembre assenze dal lavoro senza utilizzare il beige il GUP decide sul rinvio a giudizio di 13 dipendenti di provincia ambiente telecamere in ufficio geolocalizzatori sulle auto di servizio e pedinamento per scoprire il maxifenomeno dell'assenteismo ruspe al lavoro abbattuto lo scheletro di sette piani alla riviera di Pescara cronaca droga e soldi arresti a Rancitelli e Montesilvano e poi parliamo anche di arte il Florian torna in scena con dieci nuovi spettacoli venerdì scusate l'apertura della nuova stagione nuova Pescara falsa partenza vuoto la commissione statuto per l'elezione dell'ufficio di presidenza e poi maxi infornata di medici per il carcere sospiri accusa ma San Donato scoppia vediamo la prossima pagina che ci porta all'Aquila termina il piano entra nel vivo uffici shop maggiore sicurezza prevista la presenza di dipendenti del centro turistico del Gran Sasso sempre all'Aquila mozione di Forza Italia Mancinelli stop al fumo passivo nei luoghi pubblici e poi strada dei parchi il casello a 24 di torno in parte riaprirà a Natale e poi in basso dopo due anni dalla Cassazione Cialente davanti al GUP il palazzo aperto anche di notte siamo sempre all'Aquila iniziativa del Marchese Picalfieri il cortile sarà visitabile per mettere a disposizione di tutti le bellezze recuperate l'edificio è tornato ad essere un punto di riferimento ha ospitato il presidente della Camera Fico e una serie di importanti eventi via Forte Braccio ritardi per i sottoservizi e protesta con disagi per i cittadini e poi in basso il libro Viaggio nei secoli oggi la presentazione Tacuino dell'arte Balli d'amore al Munda mostra esaltante pur in spazi sacrificati andiamo a vedere la prossima pagina che ci porta ad Avezzano Paris a giudizio ma solo per calunnia la vicenda è legata alla compravendita con un cliente cinese di una sala scommesse e alla sparizione di 70 mila euro il presidente dell'Avezzano Calcio assolto perché il fatto non sussiste dalle accuse di patrocinio o consulenza infedele e truffa Avezzano finanza blocca bici contraffatte e denuncia noto meccanico Pescasseroli scoperta graminacea della steppa della Mongolia sul Mona famiglia in ostaggio di 500 metri di fogna Celano Peregrinazio Beato Tommaso tutta l'equip pronta per spostare le spoglie del santo da Tagliacozzo a Celano sul Mona Caniglia presentata la nuova stagione teatrale ancora Avezzano Eligie di Berardino nessun accordo a sinistra Chieti disturbo bipolare lavoratore licenziato riassunto dalle poste l'assenza dal lavoro non giustificate con i certificati medici secondo i giudici sono uno dei sintomi del disagio mentale Donne del mirino picchiata dal compagno che si trova ai domiciliari scattano le manette e poi le spine dei trasporti percorrenze personale in idoneo la panoramica replica ai sindacati e poi piccolo teatro grande cartellone per onorare il fondatore Sebastiani sabato cerimonia di intitolazione in occasione della prima con il tacchino di George Fediu andiamo avanti rapina in villa condanne per 65 anni abbiamo visto prima il servizio vasto statale 16 pericoloso il vice sindaco rilancia il tracciato bocciato dall'anas ortona ortona trovate le risorse per ripristinare l'assistenza agli alunni disabili a canosa sannita la festa per i cent'anni di rosaria vasto intercettato dalla stradale sul furgone nuovo rubato infine Sevel paletti dei sindacati con la nuova turnazione siamo la pagina di Teramo del quotidiano il messaggero autobus pieni e corse saltate gli studenti rimangono a piedi gravissimi problemi per l'università protesta anche il rettore Mastrocola sicurezza contro ladri e vandali a Teramo 48 nuove telecamere e poi l'iniziativa da domani a domenica in Viale Mazzini con un weekend con i cibi di strada e poi tribunale il medico è occupato lui lo insulta sotto processo un 58enne parliamo anche di lavoro contratto i sindacati chiedono ispezioni nelle aziende meccaniche siamo alla pagina di Giulianova del messaggero Giulianova Roseto e Val Vibrata in particolare abusi edilizi altre 10 demolizioni siamo a Giulianova si tratta di manufatti cui titolari non hanno pagato l'occupazione del suolo pubblico o soltanto in parte ancora Giulianova lega contro Costantini oggi udienza dinanzi al Tar e poi banda delle donne raffica di furti nel Teramano in basso Sant'Egidio la Vibrata è stato terremotato in albergo picchiava e offendeva gli altri ospiti ancora Giulianova Arboretti e Mastromauro possibili acquisti del partito democratico siamo arrivati allo sport dobbiamo però prima di parlare di sport andare a vedere le pagine interne del quotidiano la città ripartiamo da pagina 3 dalla cronaca giudiziaria condanne per 65 anni per il ride nella villa la gang romena che nel settembre 2018 si è resa responsabile della cruente rapina in casa dei coniugi martelli e come abbiamo visto anche prima nel servizio le condanne in totale ammontano a 65 anni a Pescara fissata l'udienza preliminare per i furbetti del cartellino andiamo in basso per parlare di strada dei parchi il viadotto antisismico di torno in parte pronto per le festività di Natale siamo a Teramo oggi riapre riparte il cantiere Lumaca del Corso altri due mesi e mezzo per i soli marciapiedi dei portici dell'Aci a scendere verso Porta Romana vediamo poi in basso slitta l'udienza per due alti ufficiali dei carabinieri il giudice si astiene per la conoscenza personale di uno dei due si decide tra una settimana gli esercenti di Teramo dicono no a nuovi centri commerciali Confcommercio e confesercenti contrari alla legge Sospiri per il riutilizzo dei capannoni industriali se tutti chiamano campana assessore Pelusi futuro in critico con l'amministrazione d'Alberto e l'assessore Filipponi dov'è il cambiamento e poi cronaca Forlì palpeggia una settantenne sull'autobus 52enne Teramano in manette micronido macro disagi per i genitori la struttura è ancora chiusa l'assessore dice stiamo facendo l'impossibile siamo ancora a Teramo dove arriva l'ennesimo annuncio sulle telecamere di sorveglianza e ne dovrebbero essere installate 48 in città UFO robò a terra al comune di Teramo lunedì la proposta del fumettista Carmine di Giandomenico e di Teramo Vive verrà discussa in municipio irregolarità sequestro di integratori alimentari da parte dei carabinieri del NAS il traguardo lancio del cappello per i diplomati di Eurostudi festa del promosso per la scuola che anche quest'anno ha diplomato tanti studenti lavoratori Teramani vedete anche le foto siamo a Isola del Gran Sasso muffa nella scuola aperta appena un anno fa la denuncia di crescita comune sullo stato della struttura che ospita temporaneamente le scuole medie Montorio Alvomaro una falsa fiducia a quella accordata al sindaco Facciolini in basso io non rischio anche a Campli le buone pratiche di protezione civile appuntamento sabato e domenica con il punto informativo in piazza sfollato violento finisce dietro alle sbarre siamo a Sant'Egidio alla Vibrata ospite di un albergo tormentava e minacciava titolare dipendenti ospiti e cittadini dalla Valle Vibrata derubavano anziani in mezza Italia tre donne arrestate e dei carabinieri per i colpi nelle abitazioni degli ultra ottantenni e poi la cronaca alba adriatica cade dalla scala mentre fai lavoro in casa gravissimo un cinquantenne in ospedale andiamo avanti siamo alla pagina sempre della Val Vibrata auditorium da 400 posti per Nereto vedete l'articolo in alto il progetto approvato per lavori da un milione e trecento mila euro confartigianato si schiera con il Manacara siamo a Tortoreto l'associazione critica il comune per l'accanimento nei confronti del locale per le spese per i ricorsi in basso opposizione critica per la riduzione dell'orario dell'ufficio anagrafe chiediamo al sindaco di fare un passo indietro e di trovare soluzioni alternative per il bene della comunità siamo alla pagina di Giulianova del quotidiano la città annunziata il sindaco promette una soluzione per il caso del cannone al rotonda e poi tagliati centomila euro di spese in otto anni Costantini il sindaco di Giulianova prosegue la politica di Mastromauro su digitale e telefonia in basso a Mociano Sant'Angelo il consiglio chiede di rafforzare la caserma dell'arma approvata all'unanimità la mozione presentata dal gruppo obiettivo Mociano proseguiamo siamo a Pineto due visioni diverse sulla Pineto del futuro il sindaco plaude all'approvazione del DUP il movimento 5 stelle attacca solite promesse ai cittadini Silvi lunedì riprendono i controlli a tappeto sulla differenziata ufficializzata la data amministrazione Diodoro proseguono gli incontri con i cittadini e residenti di Silvi pagina della cultura scrittura la versione di Giovanni all'arca pomeriggio con Diacovo per un incontro sui romanzi e sui racconti Giovanni Diacovo consigliere comunale di Pescara ed ex assessore della giunta Alessandrini siamo arrivati alle pagine dello sport e allora apriamo come sempre con i quotidiani sportivi nazionali la gazzetta dello sport ovviamente i titoli principali riguardano il nuovo allenatore del Milan Scala a Pioli lui il nuovo allenatore dei Rossoneri c'è un modo per riconquistare i tifosi delusi che protestano per il suo arrivo rimontare subito in classifica con il bel gioco e di giovani e in effetti l'arrivo di Pioli a Milano sponda rossonera non ha entusiasmato i tifosi rossoneri che hanno criticato la società sui social Corriere dello sport Padre Pioli da oggi l'ex viola tenta un miracoloso rilancio del Milan vediamo gli altri titoli Roma Fonseca due giornate di stop per il tecnico Juventus parla dei light la Juve aiuta a crescere e poi le panchine saltate o che stanno per saltare Gattuso vicino alla Sampdoria Genova per il momento resta Andrea Azzoli vediamo tutto sport Pantani ucciso in alto vedete il titolo intervistato da Liene parla l'uomo che ha venduto l'ultima dose al Pirata Marco non è morto per cocaina è stato ammazzato mamma Tonina io non mollo voglio la verità dunque si torna a parlare della drammatica scomparsa di Marco Pantani indimenticato campione di ciclismo siamo a centropagina Juve come te non c'è nessuno unica big in Europa imbattuta tra campionato e coppe poi vedete di spalla il Milan a Pioli ma il piano B non piace ai tifosi rossoneri lo dicevamo anche prima svolta Torino Mokulu da blindare e la rosa da sfoltire intanto c'è il rinnovo per il difensore vediamo le pagine dei quotidiani regionali per quanto concerne lo sport ripartiamo dal centro Milan è fatta con Pioli i tifosi contro la società oggi l'annuncio del neotecnico e intanto c'è la sosta del campionato perché sabato l'Italia giocherà con la Grecia per staccare il pass per gli europei immobile in debito con l'Italia voglio consacrarmi in nazionale vediamo la prossima pagina che è quella relativa al Pescara che si gode la vittoria di Ascoli ottenuta nell'ultimo turno di campionato e dopo le bacchettate della settimana precedente questa volta il presidente Sebastiani sottolinea il lavoro di Zauri soprattutto prima e durante la gara del Duca bravo Zauri gran Pescara dopo le critiche il patrone salta e biancazzurri ad Ascoli ho visto una squadra cattiva e convinta dal primo minuto deferimento Macin siamo sereni le accuse che ci vengono addebitate non esistono ha detto il patrone biancazzurro in merito al deferimento della settimana scorsa vediamo in alto le pagelle del centro per quanto riguarda i biancazzurri dopo queste prime giornate di campionato ovviamente in tanti hanno giocato poco altri hanno giocato tanto Matteo Ciofani 6 e mezzo Vittorini 6 e 25 Palmiero 6 e 25 Drudi 6 e 25 Macin 6 e 16 Galano 6 e 14 Campagnaro 6 e 1 Fiorillo 6 e 07 Bruno 6 Scognamiglio 6 Memusciai 5 e 92 Masciangelo 5 e 9 Bussellato 5 e 83 Di Grazia 5 e 7 Balzano 5 e 66 come Tuminello Castanos 5 e 6 Del Grosso 5 e 5 Cisco 5 e mezzo Zappa 5 e mezzo Brunori 5 e mezzo Bettella 5 e 25 come Maniero Ingelson 5 Ci sono diverse insufficienze poi ovviamente sono voti e valutazioni di giornalisti che ovviamente possono trovare d'accordo o meno altri vediamo in basso cosa succede a Cremona perché è stato esonerato il tecnico Rastelli arriva una vecchia conoscenza dei tifosi del Pescala si tratta di Marco Baroni che è il nuovo allenatore della formazione Grigio-Rossa vediamo la prossima pagina parliamo del Teramo Teramo si cambia Viero e Ilari le novità per scacciare la crisi oggi alle 14 e 30 il recupero della guarda di campionato con la Sicula Leonzio Arrigoni e Bombaggi in panchina Tedino ordina i suoi ripartiamo e vediamo dunque quali potrebbero essere i due schieramenti 4-3-1-2 per il Teramo con Tomei in porta Cancellotti Cristini Piacentini Tentardini in difesa Lasic Viero e Mungo a centrocampo Ilari sulla tre quarti con Cianci e Martignago di punta vediamo anche la Sicula Leonzio con Nord in porta Sosa Petta e Ferrini in difesa Parisi Palermo Sicurella Maimone e Bariti a centrocampo Lezcano e Grillo in attacco vediamo anche la promozione perché si gioca il turno infrasettimanale nel campionato di promozione spicca il derby che si giocherà in notturna tra l'Aquila e San Gregorio Cappellacci il tecnico degli Aquilani dice loro più in forma di noi vediamo anche la prossima pagina che è dedicata alla Serie D soprattutto al bomber che non finisce mai di stupire Marco Sanzovini attaccante del notaresco a 39 anni non sono finito l'ex Pescara trascina la capolista ho trovato tante porte chiuse in estate qui ambiente ideale Pomante altro ex Biancazzurro nonché ex capitano delle Pescara invita a restare umili parliamo anche di Coppa Italia perché oggi il Pineto giocherà 17.30 al Mariani Pavone con lo Stiamare e ci sarà l'esordio in panchina di Paolo Rachini dopo l'esonero di Massimo Epifani vediamo altre notizie calcio di eccellenza oggi la Coppa Italia è il secondo turno spicca Lanciano Torrese rinviata Castelnuovo Bagicalupo Vasto parliamo anche di ginnastica l'Armonia Chieti è campione d'Italia Open ritmica il team Teatino trionfa nel campionato d'insieme argento per le allieve Rugby l'Aquila addio alla Serie A l'Unione va in liquidazione epilogo amaro per il rugby aquilano con la mancata ricapitalizzazione di 49 mila euro la società Nero Verde rinuncia al campionato e ripartirà dalla Serie C1 domani il Presidente Federale Gavazzi in città davvero una brutta notizia per il rugby non solo aquilano ma nazionale perché l'Aquila ha rappresentato e rappresenta la storia della palla ovale parliamo di pallannuoto svelato il calendario della Serie A2 di pallannuoto con il Pescara che debutterà contro la Cessport la formazione di Paolo Malara che mira ad un torneo di alto livello pallacanestro di Serie B Teramo Matic lavora in vista della sfida contro Civitanova dell'ex Domizioli in basso tira a segno il tenente Fiore vince il Memorial Maione a Chieti e tornando al basket oggi ci sarà la presentazione del Pescara 1976 parliamo anche di volley il volley regionale in festa per i campioni d'Abruzzo tra gli atleti Nicolai Scampoli Varrassi di Silvestre Vanni e l'allenatore Bellano il presidente di Camillo il nostro territorio dice sempre più coinvolto nel panorama italiano in basso il calcio a 5 a questa pone caccia la vetta solitaria Nerazzuri sabato con il Sandro Abate la Color Max ospita il Catania scherma under 14 il pescarese Otri si prende il bronzo al trofeo del Conero che si è disputato ad Ancona andiamo a vedere le pagine dello sport del messaggero Pescara Sebastiani risultato storico il presidente dice da mister giocatori prova di grande carattere e orgoglio gli sportivi abruzzesi con Giampaolo Di Francesco che non sono più gli allenatori rispettivamente di Milan e Sampdoria in basso il ciclismo Bastianelli una rivincita con i Fiocchi dopo la delusione al Mondiale fantastica vittoria al Bruno Beghelli grazie a tutti ho fatto mille sacrifici vedete nella foto Martia Bastanelli a braccia alzate vediamo anche la seconda pagina di sport del messaggero Teramo mister Tedino voglio furore in campo oggi lo dicevamo anche prima recupero con la Sicula Leonzio gara che diventa un banco di prova per la squadra certi Cristini Piacentini e Mungo in bilico Bombaggi e Arrigoni sostituito da Viero vediamo anche il calcio di promozione l'Aquila San Gregorio il derby fa paura super derby che si giocherà in notturna e poi Lanciano di Pasquale giochiamo per vincere grande attesa per il match contro la Torrese di Coppa Italia Palla a volo Ortona Scoglio Mondovì formazione attrezzata con i pugliesi si chiude il ciclo delle amichevoli della SIECO Service Ortona parliamo anche di calcio di Serie D Pineto Rachini al debutto vuole brindare in Coppa dopo l'esonero di Epifani oggi ci sarà l'esordio di Paolo Rachini sulla panchina del Pineto nella gara che alle 17.30 per la Coppa Italia e Bianco Celesti giocheranno al Mariani Pavone contro l'Ostia Mare e chiudiamo con lo sport del quotidiano La Città Teramo stavolta non ci sono alternative è proprio così questo pomeriggio il recupero con la Sicula Leonzio Tedino cambia qualche interprete per trovare i tre punti vittoria a tutti i costi per la formazione Bianco-Rossa che occupa le ultime posizioni della classifica attenzione a Bariti talento mai esploso e davanti c'è l'Escano parliamo della Sicula Leonzio squadra allenata da Grieco che malgrado la posizione di classifica ha degli elementi molto interessanti per la categoria dunque non si può sottovalutare sicuramente la formazione siciliana di Lentini vediamo poi il centro sportivo italiano psicomotricità e sport l'impegno a Teramo nelle progetto piazze d'incontro e al via la stagione dell'oratorio San Gabriele di Atri l'evento che ha visto la partecipazione dell'ex calciatore di Serie A Gianluca Colonnello siamo così giunti alla termine l'appuntamento di oggi con Mattino 6 grazie a Claudio Di Giacomo in regia grazie a voi per averci seguito vi ricordo quanto concerne l'informazione della nostra rete l'appuntamento con la prima edizione del TG6 alle 14 ma oggi in posticipo rispetto all'appuntamento tradizionale del martedì questa sera non perdete soprattutto Proteramo con Jacopo Forcella per commentare con servizi e interviste la gara di campionato fra il Teramo e la Sicul Leonzio è davvero tutto grazie e buona giornata Grazie a tutti